Una volta stavo ballando in tv e a un certo punto, tra, si è rosso il vestito, adesso sto in linea perfetta, guarda qua, sono dimagrita 10 kg in due mesi col piano Slim Fast ed è facile da preparare, uno Slim Fast alla mattina, uno a pranzo, ed è buonissimo, e la sera un bel piatto di pasta non me lo leva nessuno, e con Slim Fast, visto che ne è un dia? Nuovo Slim Fast, dateci una settimana, vi toglieremo il peso